la giù c'è la torre di chioto qui non so se si chiama iubin ecco vedete cosa succede mamma mia ecco non so se si chiama iubin oppure se non sono più stupido se non sono più stupido io a cadere così guardate che belli Sakura io comunque mi perterrito non demordo per youtube questo ed altro no per i miei video per youtube un po triste questi Sakura scendono e la vita che scorre mi fa male la gamba davvero terribile ha fatto un bel volo direi c'è rotto anche l'ombrello c'è rotto no forse non è rotto non è rotto del tutto bene 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 grazie 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 grazie